Hey Bobby, sono quella dell'uomo che cade giù per le scale! Certamente Johnny! Oh, l'adoro! È bellissimo qui fuori! Vero, solo io, tu e la Luna! Ehi, voi due, dovreste baciarvi! Signore, lei sembra avere un caso molto serio di voce da bambino. Ciao tartarugamina! Ehi amico, ti va di giocare ai videogiochi? No, aspetta, tu mi batti sempre! Ah, sì, ed ora? Oh, ok. Ehi amico, finirei qui a Muffin? No, perché lavora la fabbrica dei Muffini. Chissà se il mio buono sa volare. Ed ora, le Anacris. Stavo per dirlo io! Stai scherzando? Oh, wow, stiamo così telefatici! Mammi, mammi, guarda una tartaruga! Eh, amico, mantieni questo! Ti colpirò in faccia! È il giorno degli opposti. Oh, no! Oh, no, stavolta non ti capesterò. Mamma, 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 mamma. Ma non ti stanchi di essere random? Hm, neanche io. No, no, stavolta non ti stanchi di essere random? No, stavolta non ti stanchi di essere random? No, stavolta non ti stanchi di essere random?